Ciao! Come sapete, all'inizio di 2019, prima che arrivi il prossimo film di Avengers, quindi il quarto, uscirà nelle sale Capitan Marvel, un film ambientato negli anni 90 del Marvel Cinematic Universe e quindi un vero e proprio prequel di tutto il MSU. Ora, è qualche giorno che continuo a sentire questa cosa per cui Capitan Marvel sarebbe il Superman della Marvel Comics. Ed è sinceramente una cosa che non riuscivo a spiegarmi. Mi è venuto in mente questo dubbio. Non è che si stia sbagliando Capitan Marvel? Facciamo un po' un riassunto. Nel Marvel Universe, il Capitan Marvel originale era un alieno, si chiamava Marvel, staccato. Era un alieno Kree ed era arrivato sulla Terra, in teoria, per controllare i terrestri che si stavano evolvendo. Il piano dei Kree, ovviamente, a un certo punto diventa buono, diventa un difensore dell'universo. Questo Capitan Marvel attraeva i suoi poteri dalle negabande, due bracciali tecnologici che lo rendevano in grado di assorbire energia e ridirezionarla, lo rendevano superforte, capace di volare. A un certo punto il Capitan Marvel originale si ammala di tumore e muore nella storica graphic novel La Morte di Capitan Marvel. Capitan Marvel però è diventato quasi un marchio, quindi ci sono stati vari eroi che hanno portato il suo nome. La prima è quella che è l'attuale Capitan Marvel, ed è tra l'altro la protagonista del film, Carol Danvers. Carol Danvers acquista i suoi poteri in un incidente in cui era presente anche lo stesso Capitan Marvel. Infatti i loro geni vengono fusi e lei ottiene dei poteri molto simili a quelli dell'originale. All'inizio si chiama Miss Marvel, proprio perché c'era già un Capitan Marvel, era di moda avere la versione femminile degli eroi. Prima che Carol decidesse di utilizzare il nome Capitan Marvel in onore appunto dell'originale, abbiamo avuto altri Capitan Marvel. La prima è stata la speroina attualmente nota come Photon, Monica Rambeau, che aveva il potere di trasformarsi in qualsiasi tipo di energia e quindi anche ridirezionarla ovviamente. In seguito abbiamo avuto altri due Capitan Marvel che erano i figli dello stesso Marvel, ovvero Genis, Genis, Vell, e in seguito la figlia, ovvero Faila, Paila, Pila, Fila, Vell, con qualunque modo si pronunci, entrambi deceduti al momento. Ma quindi, se Capitan Marvel è un supereroe che si vola e è relativamente forte, ma il suo vero punto di forza è il controllo dell'energia, perché questa cosa in cui Capitan Marvel sarebbe il Superman della Marvel? Esiste un Capitan Marvel che è molto simile a Superman e per assurdo è il Superman della DC. Questo è... questo Capitan Marvel è Capitan Marvel slash Shazam. Shazam è un supereroe nato negli anni 40 per la Fawcett Comics ed era un ragazzino, Billy Button, che incontra un mago che gli dona appunto questo potere. Ogni volta che lui grida Shazam diventa un eroe grosso, muscoloso, col mantellino, capace di volare, in pratica un vero e proprio clone di Superman, cosa che tra l'altro portò a suo tempo la DC a fare causa alla Fawcett Comics. In seguito, intorno agli anni 70, la Fawcett Comics smise di fare fumetti già negli anni 50-60, ma la DC acquistò i diritti di Capitan Marvel e quindi attualmente coesiste nello stesso universo di Superman. Altro punto di contatto, fra l'altro, fra Shazam e Superman è che hanno più o meno la stessa famiglia di eroi di contorno. Dove Superman aveva Superboy, Capitan Marvel aveva Capitan Marvel Junior. Dove c'era Supergirl, Capitan Marvel aveva Mary Marvel. Quindi le coincidenze sono tantissime. Il mio dubbio ovviamente resta che la gente cercando Capitan Marvel su internet gli appaia l'immagine di Shazam e faccia uno più uno e Capitan Marvel. È la versione Marvel di Superman. Ora, questa ovviamente è la mia ipotesi. Potrei sbagliare e potrei non vedere eventuali somiglianze che agli altri sono ovvie. Se avete dei dubbi o la pensate in modo diverso, segnetelo nei commenti. In ogni caso, se volete un vero e proprio clone di Superman nell'universo Marvel, ne abbiamo sicuramente uno. Si chiama Hyperion, viene da un universo parallelo a quello canonico universo 616 Marvel e fa parte di un supergruppo, lo squadrone supremo, che è un vero e proprio clone della Justice League, in cui abbiamo un velocista, abbiamo un personaggio che controlla una strana energia, l'Utrospectrum, un vero e proprio clone di Linterna Verde, abbiamo la versione Marvel di Batman, Nighthawk, nonché una versione Marvel di Wonder Woman. In ogni caso, di Hyperion si sono viste più e più versioni nell'universo Marvel. E lo squadrone supremo è nato come avversario dei Vendicatori, ma come chiara citazione della Justice League. Quindi non è un'ipotesi, è proprio una copia di Superman. Abbiamo anche un altro personaggio che viene spesso considerato una sorta di Superman dell'universo Marvel, è il gladiatore degli X-Men, o meglio, il gladiatore, il comandante della guardia imperiale Shi'ar, è un alieno che vola superforte e che, come in molte idee o versioni di Superman, trae la sua forza dalla sua convinzione. Quindi più è convinto di essere forte, più è forte. Se dubita, la sua forza diminuisce, quindi è alimentato dalla autoconvinzione. Attualmente, fra l'altro, è addirittura l'imperatore dell'impero Shi'ar, se non sbaglio. In ogni caso, con questo direi che è tutto. Se avete qualsiasi altro dubbio, richiesta, informazioni, lasciatemi un commento. Seguitemi sui social e cliccate sulla campanella così potete vedere il prossimo video. Seguite il canale e arrivederci al prossimo video. Grazie. Grazie.